I tre sindaci del piano di zona, formato da Battipaia Capofila, Bellizzi e Olevano sul Tusciano, allontanano le polemiche dei giorni scorsi e asseriscono come non ci sia stato alcun taglio alle ore per l'assistenza ai disabili. Abbiamo convocato in un tavolo tecnico che il sindaco Volpe aveva già preannunciato venerdì scorso, quindi all'inizio, prima delle polemiche, con i dirigenti scolastici di tutto l'ambito. Semplicemente abbiamo chiarito la nota che il dirigente del piano di zona ha emanato giovedì scorso dopo il coordinamento istituzionale, che è quella che da quest'anno garantiremo le cinque ore minimo ai ragazzi disabili come primo inserimento, ma tranquillamente saranno garantite tutte le ore previste dal PEI per l'anno 2023. Quindi tanto rumore per nulla. Il tavolo è stato, al di là della decisione che è stata presa, che è sicuramente importante perché comunque va a ribadire un diritto che noi assolutamente volevamo negare agli alunni che frequentano le nostre scuole, è nato anche comunque un momento di confronto molto importante perché con i dirigenti abbiamo concordato di rivalutare questo servizio proprio per l'importanza che ha per rivalutarlo e dandoci comunque a un nuovo appuntamento per garantire degli standard sicuramente migliorativi e più costruttivi. Non abbiamo mai parlato di riduzione, abbiamo parlato di una razionalizzazione di quello che è il servizio e siamo pronti anche già per i nuovi PEI, laddove c'è un monte ore da assegnare anche domani siamo pronti per garantire le ore che vengono richieste. Io credo che in questa vicenda qualcuno non ha fatto altro che soffiare sul fuoco. Non ho capito, anche se avverto anche una certa scorrettezza istituzionale, perché personalmente mi sono preoccupato di calmare nel momento in cui la nota era da interpretare, ammettiamo anche questo limite, non ha ascoltato. Avevamo subito indicato un tavolo tecnico per cercare di chiarire lo spirito perché siamo tra i piani di zona che da sempre ha sposato la causa del sostegno per i bambini diversamente abili. Questa cosa mi ha lasciato un po' di amarezza, devo dire la verità, io non sono intervenuto nelle polemiche perché Idro Mondanelli insegnava replicare, quindi significa girare ulteriormente la puzza. Allora con questo incontro, grazie naturalmente al comitato istituzionale dei sindaci, volevano battipagli, abbiamo ribadito che non c'è nessun taglio al monte ore perché ci sono dei pay in corso, quelli di validità vidimati naturalmente, possono avere la loro continuità. I nuovi, come è stato detto, avranno cinque ore disponibili per i bambini che entrano il primo anno nell'ambito scolastico. La cosa importante invece è che dobbiamo chiarire il rapporto istituzionale tra di noi, ASL, Regione Campania, piano di zona e individualmente i comuni possono entrare in merito a questa materia perché c'è uno scollamento, è un cane che si morde la goda perché i comuni in questa materia devono impegnare i soldi preventivamente, io devo sapere. È dato che molto spesso gli insegnanti della specialistica sostituiscono gli insegnanti di sostegno perché il Ministero non manda il monte ore giusto e gli insegnanti di sostegno nelle scuole. Quindi alla fine si è creato un po' di confusione, ma io credo che saremo tra un piano di zona capofila perché rimetteremo un po' d'ordine in merito a questa problematica.